... Negli studi Abruzzo Web, Guido Liris, consigliere comunale dell'Aquila di Forza Italia, vicepresidente regionale del partito e da poche settimane è entrato mediaticamente, diciamo così, anche se non ufficialmente nel lagone del totosindaco in vista delle elezioni nel capoluogo che ci saranno a giugno. Bentornato negli studi, intanto partiamo proprio da questa candidatura nata come abbiamo scritto noi a cena con i consiglieri comunali, con alcuni pezzi, non tutti, della coalizione che le hanno chiesto di un passo in avanti. Com'è andata? Beh, questo è stato un momento curioso delle ultime vicende politiche, è stato un po' il momento più simpatico che assurta gli onori della cronaca per essere venuto fuori l'episodio appunto della eventuale possibile mia candidatura nel momento in cui una riunione, tra l'altro in una cena tutt'altro che segreta perché il clima era festoso in un locale pubblico ricordo a tutti che le cene o gli accordi segreti di certo non si fanno nei ristoranti soprattutto degustando un buon pesce con una buona bottiglia di vino ma era un momento di simpatia e di afflato generale per quanto riguarda il percorso che ha accomunato per quattro anni e mezzo tanti consiglieri comunali e questo è importante anche dire agli spettatori siamo prima di tutto uomini, persone, amici che hanno condiviso anche un percorso umano in questi quattro anni e mezzo ebbene in questo momento di metà strada tra la goliardia e la politica c'è stata una richiesta di passo in avanti nei confronti della mia persona dopo che si sono esplorati gli scenari possibili fino a quel momento mi è stata chiesta una disponibilità a scendere in campo per poter trovare il prima possibile una quadra su un tipo di candidatura importantissima, centrale per il nostro destino e per il destino di chi ci seguirà, dei nostri figli senza voler essere romantici ma soprattutto una candidatura vincente che potesse il più possibile coagulare le forze attorno ad una persona che potesse essere un po' il primus inter pares di una situazione e che potesse poi andare a portare alla vittoria finalmente dopo dieci anni di sventura del centro-sinistra la coalizione del centro-destra e quindi portare quel vento di novità che gli aquilani da tempo richiedono Ecco, la risposta è stata ci penso a oggi, quali sviluppi ci sono? Chi conosce bene i meccanismi della politica sa bene che alcune richieste in particolar modo così forti così importanti come quella venuta fuori dai consiglieri comunali quelli che a pieno titolo parlano di politica, parlano a nome della popolazione aquilana perché sono stati eletti, quindi hanno già dimostrato con i loro voti, con il loro consenso di aver potuto fruire della fiducia della popolazione beh, quando ti arrivano queste proposte non puoi che prenderle in considerazione in maniera chiaramente lusingata da parte mia perché siamo innanzitutto, ripeto, tutti uomini e quindi una parte di vanità l'abbiamo tutti in maniera lusingata ho potuto ricevere questo tipo di comunicazione, di richiesta da parte dei consiglieri comunali ho chiesto soltanto un aspetto, l'eccezione che ho chiesto e che venisse rispettata è che la mia candidatura non fosse l'ennesima candidatura che non fosse dopo le tre che erano uscite nell'ambito di centrodestra la quarta candidatura ma che ci fosse la possibilità, torno al mio nome, di poter esplorare le possibili convergenze che fosse una candidatura che potesse unire il centrodestra, non dividere ulteriormente altrimenti non avrebbe avuto motivo d'essere e gli altri tre che sono scesi in campo comunque sono stati indicati prima di lei quindi partiamo dal primo a venire allo scoperto è Salvignano Luigi Deramo poi c'è stata la scoperta di Pierluigi Biondi, ex sindaco di Villa Sant'Angelo che a breve diventerà pubblica con un evento buon ultimo l'ex manager dell'ASL Giancarlo Silveri che ha lanciato un movimento non ha parlato da subito di candidatura a sindaco però ha lavorato in ogni modo per che si concretizzi questa cosa quindi lei ha detto voglio essere l'unico, non il quarto sostanzialmente che cosa ne pensano gli altri tre? Ma vedi non voglio essere l'unico mi sembra irriverente e non rispettoso delle legittime aspirazioni degli altri il discorso è un altro a me non interessa stare all'opposizione ma non perché bisogna per forza vincere, governare e gestire assolutamente ma l'opposizione in particolar modo questa opposizione rispetto a una maggioranza che non ha fino adesso in questi ultimi cinque anni questa di centrosinistra del PD di Cialente dimostrato di avere alcuna volontà di ascoltare un tipo di contributo che venisse da altre formazioni in particolar modo dell'altra parte della barricata non mi interessa perché non c'è capacità di ricevere il messaggio diverso rispetto a quello che è stato stabilito dalla triade da chi governa, da chi da vent'anni decide i destini di questa città in maniera assolutamente autoreferenziale a questo punto a me interessa che questo centrosinistra vada a casa che questo centrosinistra non abbia più voce in capitolo in questa città e che possa liberare la città da quella occupazione che il PD in particolar modo, il Partito Democratico con le varie espressioni ha potuto perperrare a livello totale a 360 gradi, alle fondazioni bancarie, alle banche alle associazioni sportive, culturali al mondo del volontariato c'è stata un'occupazione quasi militare di tutti gli spazi a me interessa la liberazione della città dal Partito Democratico chiaramente così come ha voluto intendere l'occupazione di questo territorio quindi certamente non è una liberazione dalle persone ma è da un metodo che assolutamente non gradisco per liberare questo tipo di città che è molto particolare perché è molto autoreferenziale molto chiusa come è quella della nostra bellissima città dell'Aquila e beh i metodi non sono tantissimi il metodo è uno solo presentare una proposta forte alternativa, unica da contrapporre all'attuale modello conservatore, ristretto, provinciale che ha voluto imporre il centrosinistro della nostra città e per fare questo è un semplice sillogismo aristotelico a me piace vincere in questo momento è importante per il centrodestra vincere per quanto mi riguarda si vince soltanto se la coalizione è unita ha senso per me scendere in campo se c'è una coalizione unita che punta sul mio nome non mi interessa essere, ripeto, il quarto dopo tre candidature, ripeto autorevoli, legittime, ottime che ci sono state prima di me se la mia candidatura fosse unitaria avrebbe un senso altrimenti ci sarebbero altre persone che hanno prima di me dimostrato la loro disponibilità a mettere la loro faccia in discussione Le chiedo di commentare brevemente visto che ci sono altre tre persone già in Lizza in vari modi le chiedo di commentare tre affermazioni che ci hanno fatto in tempi recenti queste persone parliamo da Luigi Deramo che ha detto l'Iris va benissimo purché faccia le primarie purché si facciano entro i primi di marzo altrimenti andiamo da soli è abbastanza netta, abbastanza precisa che ne pensa? Ma io posso dirlo senza voler suscitare o toccare meglio la suscettibilità delle persone sono contro gli ultimatum proprio per il motivo che ho appena detto qualche secondo fa cioè credo nella forza della coalizione cioè il bene supremo è la coalizione beh, chi tiene alla città e chi vuole provare a vincere la partita deve credere fino all'ultimo secondo utile che si possa comporre la coalizione l'ultimatum ha un po' più il sapore dell'interesse rivolto a una percentuale di partito o a un successo personale io penso e lo vorrei dimostrare in prima persona che è più importante il valore della coalizione che una percentuale di partito o un numero di voti personale ne vale della quadratura finale ci dobbiamo provare fino alla fine e senza ultimatum dire o si fanno le primarie o nulla o il candidato è questo o vado da solo cioè sono degli ultimatum che non fanno bene al centro-destra e che non danno quel contributo ripeto, al bene supremo se non capiamo che le nostre persone non sono nulla rispetto all'importanza della coalizione ma non per essere romantici assolutamente perché l'aspetto estetico che viene percepito dalla popolazione è di essere vincenti soltanto se uniti lo abbiamo visto nelle ultime due tornate elettorali il centro-destra non che diviso non esprima delle qualità accettabili di candidatura il problema è che non dà la percezione all'elettorato di essere vincente e quindi in parte non viene votato in parte ti sfugge quella parte un po' un divaga dell'elettorato che purtroppo si schiera alla fine e con il possibile eventuale vincente Giancarlo Silveri ha detto l'IRIS è stato richiesto dai consiglieri comunali che tra un po' non si daranno più in consiglio è di Forza Italia doveva indicarlo il partito di Forza Italia ma questa è stata un'affermazione forse un po' di pancia perché lo voglio sperare che i consiglieri comunali almeno quelli che erano seduti a cena non sto scherzando anche tutti gli altri perché poi c'è la capacità di superare anche i momenti di attrito in nome di un momento più importante di questi quattro anni e mezzo passati insieme meritano di tornare in consiglio comunale magari ci potremmo tornare con una capacità più efficace di stare insieme di fare proposte unitarie anche per poter, ripeto, rasmettere un messaggio all'esterno Giancarlo è un amico e io voglio che rimanga tale il rapporto nei confronti di tutti i candidati attualmente in campo del centrodestra e non è, ripeto, un modo retorio di parlare ma è che la rottura dei rapporti umani che io considero superiori ai rapporti politici è poi proromica rispetto alla sconfitta ma per un motivo molto semplice perché i rapporti umani deteriorati non consentono facili convergenze politiche e quindi le difficili convergenze politiche comportano poi le sconfitte io credo nei rapporti umani perché i rapporti umani rendono più facili anche i rapporti politici e quindi i rapporti politici ben funzionanti ben efficaci e funzionali gli uni con gli altri rendono più possibili e più vicine le possibili vittorie Pierluigi Biondi infine visto che si parla di amici non è un mistero la vostra amicizia ci ha detto appunto questo pronto a competere con chiunque nel centrodestra tranne che con l'Iris sostanzialmente però c'è anche la clausola ha detto io ho la legittima ambizione di entrare nel Consiglio Comunale dell'Aquila in sintesi, non sono le parole esatte e rappresentare un nuovo modo di fare politica quindi c'è comunque anche come dire una porta aperta diciamo così una porticina questa affermazione come la valuta invece Innanzitutto ci mancherebbe altro che Pierluigi dopo aver dimostrato negli anni la sua capacità la sua qualità non abbia la legittima ambizione di voler sedere sugli scranni e perché no sullo scranno principale di Palazzo Margherita mi avrebbe da dire ma in questo caso del Comune Pierluigi Biondi ho sentito con attenzione il servizio e letto l'intervista che avete riportato sul vostro giornale web non aveva bisogno di dimostrare con l'intervista la sua lealtà e la sua grande capacità sia a livello umano che a livello politico in quelle che sono state le sue affermazioni quindi una sua candidatura sua di lei a sindaco non chiuderà le ambizioni di Biondi ma io credo in un aspetto e lo riproporrò anche di qui ai prossimi giorni che spero non siano tanti per arrivare a un tavolo finale se si arrivasse a una qualsiasi a una qualsiasi ripeto e non è un gioco politico a una qualsiasi candidatura unitaria tra i nomi in campo il mio incluso evidentemente o se si andasse a un quarto, quinto, sesto nome che potesse e che possa scusate unire la coalizione ebbene questo sarebbe il momento migliore più forte più importante che il centrodestra potrebbe costruire se una coalizione si riunisse attorno a Pierluigi Biondi non ci sarebbe nessuna difficoltà per esempio si sono fatti dei riferimenti sbagliati al tavolo regionale e nazionale le espressioni in questo caso non sono state decise né da Roma né da Pescara né dal tavolo regionale le espressioni delle candidature uscite finora nel centrodestra sono tutte uscite dal tavolo aquilano dai partiti aquilani che non si sono messi in questo momento d'accordo per il metodo per il merito per le qualità riconosciute o non riconosciute ai singoli personaggi e se i partiti piuttosto che i movimenti civici provano a mettersi d'accordo su un altro piano che non significa un piano lontano dal territorio significa un piano di compensazione che possa consentire le compatibilità queste non sono un escamotage delle botteghe oscure oppure del segreto estanza dei partiti qui abbiamo un momento di antipolitica che sta purtroppo costringendo tutti alla demagogia al populismo senza ricordare che nel passato le scelte importanti si sono fatte chiudendosi dentro una stanza anche per ore interminabili per 24 48 72 ore e alla fine uscire con una proposta senza dare segni di scompenso all'esterno che ripeto oggi soprattutto non vengono percepiti positivamente dalla popolazione che anzi comincia a pensare male e comincia a credere che chissà quali interessi siano sopiti o nascosti dietro una grossa difficoltà di mettersi d'accordo ecco a proposito di intesa appunto di decisioni finali nel 2012 l'8 marzo fu indicato il nome di Pierluigi Propersimo il candidato del centrodestra in quel caso deprivato di Giorgio De Matteis pensa che si andrà oltre questa data considerando anche però che si voterà con un mese di ritardo rispetto a 5 anni fa nel 2012 c'ero quindi ricordo benissimo come andò e se è vero che la storia è magistra vita e la maestra della vita della nostra esistenza e deve essere così come appunto l'esperienza deve significare qualcosa nel nostro percorso beh non si deve commettere lo stesso errore se fosse stato il centrodestra di allora più attento e più volenteroso nel voler trovare una sintesi tra le persone che volevano fare sintesi in quel momento e c'erano sia dell'ambito Propersi che dell'ambito De Matteis probabilmente si sarebbe arrivati a una candidatura unitaria la candidatura unitaria significava andare al ballottaggio con un numero maggiore di voti e un numero maggiore di voti una percentuale più alta significa essere maggiormente attrattivi anche in fase di ballottaggio ecco è questo il modello che io voglio assolutamente percorrere fino all'ultimo secondo utile perché poi non ci siano alibi perché poi gli aquilani non abbiano un'idea sbagliata di quella che è la vera volontà degli esponenti del centrodestra aquilano poi dobbiamo dare un colpo di reni noi giovani non dimostrare di aver preso soltanto le caratteristiche negative di chi ci ha preceduto proviamo a fare un salto di qualità e dimostrare di poter anche con una capacità semplicemente di maturità sederci attorno a un tavolo e trovare le sintesi e le compatibilità possibili fondamentalmente la politica è l'arte della compatibilità secondo me non ci sono incompatibilità negli attuali protagonisti del centrodestra ce ne sono più paradossalmente nel centrosinistra ma non mi sembra che facciano così baccano come si fa nel centrodestra è una caratteristica purtroppo che ci caratterizza da tempo una voce che gira è quella di un liris che in realtà non vuole fare il sindaco dell'Aquila ma è più interessato a partite future le regionali le politiche un domani è vero non è vero in parte vero guarda questa voce è paradossale ma è girata quando hanno potuto constatare che ero molto più interessato a riunire persone grandi elettori per comporre la coalizione rispetto a trovare il candidato sindaco e qualcuno ha potuto rimproverarmi di non essere sceso nel lagone prima ripeto il valore più importante è la coalizione ma non ho assolutamente mai avuto paura come qualcuno in maniera buffa ha detto del giudizio elettorale essendoci dei numeri e i numeri sono impietosi che dalla circoscrizione dal consiglio di circoscrizione passando per la provincia fino a arrivare al comune possono benissimo testimoniare quando si gioca arriva chiamo gioco perché in maniera benevole assolutamente quando si percorre in maniera appassionata l'iter della politica quando ci si appassiona dall'età di 14 anni e mezzo alla politica beh non si può che sognare e si è legittimati a sognare soprattutto se lo si fa ascoltando la gente senza avere macchie sulla propria persona quindi qualsiasi tipo di ambizione lo sarebbe assolutamente se c'è una partita a livello comunale interessante si percorre anche verificando se c'è una compatibilità se la propria compatibilità se la compatibilità tra se stessi e gli altri non è raggiungibile a livello di comune si mette la propria storia e la propria qualità a disposizione di un percorso che comunque deve portare alla vittoria finale al comune e magari si ripone per altre battaglie la propria disponibilità ma assolutamente non si tira mai il piede dietro ma si gioca duro quando il gioco diventa duro e oggi siamo in un momento cruciale della nostra storia politica amministrativa che non può vedere assenti i nostri quarantenni come si dice i nostri giovani con un occhio al passato rispetto agli errori che sono stati effettuati da chi ci ha preceduto ma sicuramente avendo davanti a noi una grande possibilità di costruire il futuro insieme grazie a Guido Liris grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi